nel racconto della passione secondo giovanni che la chiesa ci fa legge del vederti santo colpisce la presenza di domande domande sull'identità di gesù anzitutto chi è gesù di nazareth lui è re dei giudei in che senso qual è il suo regno come verrà ma ci sono anche delle domande rivolte al discepolo all'apostolo a pietro viene interrogato proprio sul fatto di essere o no discepolo di gesù e lui lo rinnega per ben tre volte ma c'è un discepolo che invece segue gesù fino alla croce e si trova lì con la madre sotto la croce e lì scopre il grande dono di diventare del discepolo figlio ecco il dono da chiedere in questo venerdì santo di essere discepoli del signore di arrivare sotto la croce e di diventare figli e di avere in maria la madre con lei che ci consola con lei che ci aiuta a vivere anche questo tremendo venerdì santo